Nascosta in barattoli alimentari perfettamente confezionati, un metodo casalingo con cui una donna cubana di 27 anni teneva in casa due chili di sostanza cremosa risultata ad un'attenta analisi cocaina pura. A portare a termine l'operazione i carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno bloccato sul nascere il tentativo di immettere la droga nel mercato illecito, un affare che avrebbe fruttato circa 800 mila euro. Nell'appartamento di via Guglielmo Marconi a Ciampino ha anche 5 mila euro in banconote di vario taglio e strumenti per il peso e il confezionamento delle dosi. La droga e il denaro erano occultati tra alcuni altari e oggetti legati ad una particolare santeria cubana della quale la donna si è dichiarata sciamana. Trovati anche teschi, osse e vari feticci perfette riproduzioni in plastica. Il materiale è stato sequestrato durante la perquisizione mentre la donna, arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata portata in carcere a Rebibbia.